Da dove vieni? Offida! 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 Ma che fai? Che fai nella vita? Niente! Tu che fai? Niente! Niente? Fai finta di poi niente! Ok, perfetto! Signori abbiamo quattro esemplari davvero particolari che mi aiuteranno a capire come si può vincere la forza di gravità Eccoci qua! Uno! Quando? Two! Three! Four! Allora ragazzi! Con me ho bisogno di capire di voi qualcosa di più che io non posso sapere neanche chiedendopelo Per cui seguitemi! POSIZIONE! E come si diceva da ragazzi Inubisci in compagnia Come on! Non trovo che succede Con la la... Grrrr! Signora si faccia vedere che ece a prendere Oh! Ecco l'è! Eccolo! Va! Non le dice di mai! Qui la sera prima bollano Mi suona giusta! Vabbè! Wellulo! Quindi signori! Com'è? È divertente Rилась! Rilassa! Stai lì a... ok! Come ti girano a mio? A tuo agio, addirittura! Ragazzi, se mi guardo... Ah, non sei... Ah, c'è, pronto bene... Allora, vai! Vai! Mi spiaggia tanto! Guardi a tutti! Non fila, oh no, ma non è così! È meglio che non insisti! Allora... No, di solito, a me mi fa così! Allora, tu... Pronti? Vai! Tu non mori mai! È contagioso, te lo vedo! Ok, ragazzi, mi voglio che... Mi state a divertire! Mi voglio dire una cosa! È un'illusione! Non capiterà mai più! No, però... Non preoccupi! Ragazzi, quello che viene viene, vai! Vediamo fino a dove? Là! Te li immagini una cosa del genere? Allora... A due il giro sarebbe così, no? Perfetto, perfetto! Ragazzi, ho capito quello che dovevo! E quello che volevo! Ora, non resta che andare oltre! Se vuoi te lo lascio! Bene, bene! Signori, ci siamo! Ora, voglio sapere il peso fisico! Fisico! 70! Noi, 69 sempre! Dopo quello che abbiamo fatto! 85! 70! 155! 75! 155! 60! 330! 30! Circa... 330 kg! 10 più! 10 più! Che io, il Mago Pierre, solleverò con la forza del pensiero! È chiaro che se qualcuno dovesse manifestare meraviglia... è il battaglio! Ah, no! Il battaglio! Oh, no! Il battaglio! Oh, no! Ok! Yes! E da questa parte? Ah! No! No! Ah! Eh, come vuoi dire? Allora... Allora... Allora! Ci facciamo! Oh! E poi invece il battaglio! Ci siamo! Signori, qui avverrà tutto! Davanti ai vostri occhi! Pronti? Devi dire sì! Yes! Adesso... Scusi, sì! Stiamo a lavorare! Allora... Partiremo da questo primo punto di appoggio... Per sollevare il mondo, diceva Archimelli Pitagorico! Un nome ammessa familiare! Guarda! C'è un... C'è... Aspetta! Patata! Ta-da-da-da! Ta-da-da-da-da! Ta-da-da-da! V broken a意思 su dentro真ussian... Four, ü... La-la-la-la-la-la! La-la-la Qoio! La-la-la-la-la creative! r since lazio... сложно che... come on, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, yes, yes, yes come on, let's go come here, in this position, look at me, look at me, look at me, yes stop, sit down, yes, 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 I knew you, in this position, come on, come on grazie, grazie, 1, atas, tac, 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 è un dono per il mare sì 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 stop sit very good Scegliete un posto, metti subito, metti subito, metti subito, come vuoi tu? Come vuoi tu? Perfetto, come ne hai capito sta cosa? È indigente, non sembra mai indigente, ok, al solito, stop, perfetto, perfetto, relax, relax, vuota la mente, vuota la mente, non serve, vuota la mente, vuota la mente, and now, and now, sorry, non è il momento di toccarsi. Relax, 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 accoglilo, accoglilo, amicizia, fagli due noccole che non è un bel momento, ok, adesso, relax, 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 stop, lascialo, vivi da solo, ok. Relax, 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 stop, vuoi tu Federico? E tu? Vuoi fare amicizia con Tarzan? Yes! Tutti per uno, non per tutti. Take that, take that, take that, duran duran. Ma non mi farò così, spingerai verso l'alto ciò che ti è più caro. Quindi tutto. Hop, hop! Chiara, poi lo userai così da tanto, padre. Non te lo ricordi? Quando te vuoi, figlio. Lascia stare, lascia stare. Spingi verso l'alto con un bacino, vai. Hop, 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 vai, 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 vai. Spingi, 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 bacino, 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 vai, 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 Adesso, 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 stikti, 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 stikti. No. Sì, la stai facendo. Ecco, ecco, ecco. E ora, quando io farò così, senti che botta. Al mio tre, fammi me, signora, l'avevo visto. Uno, due, tre, vai. Sì, 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 yes! Sta buio! Yes! Aspetta, aspetta, c'è un'idea! Ma non mi ricordavo che stavate qua! Al mio 3, sulle mani! È bellissimo! Noi, faccia una foto quando stanno tutti a terra! Uno, due, tre, sulle mani! Yes! Ottimo, state errando morte! Adesso, l'ultima è fantastica! Vabbè, al mio 3, tutti sopra lui! No, no, no! No, non lo dirò più, prometto! Allora, al mio 3, sulla gamba destra! No, no, facciamolo! Accoccolatevi ad ascoltare i rischi, accoccolatevi! Giù, 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 giù! Giù, 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 giù! Vogliatevi bene! Giù, giù, giù! Giù, giù, giù! Giù, giù, giù! Giù, 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 giù! Giù, 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 giù! Sììììììììììììììììììììììììì! Un applauso a questi quattro! Bravi! Coschettieri! Grazie! Grande, grande. anche Tazza la prova della sua forza grazie grazie non mi farei più assistenza ma questo ormai è un rischio un applauso a loro grazie ragazzi il vago Pier vi ringrazia per la vostra attenzione e la vostra simpatia all'io 3 faremo un ultimo bellissimo gioco tutti laggiù